Star Wars Jedi Fallen Order ragazzi versione PS5 di questo gioco fantastico fantastico Cavaliere Jedi e vai e vai ragazzi si comincia questa è una piccola presentazione del gioco in versione PlayStation 5 ragazzi e voi vi ricordate i tempi di caricamenti immensi che c'erano di questo gioco PS4 adesso andiamo a scoprire insieme come hanno fatto questo gioco ragazzi Ah Senti, scusa Carl, mi dispiace di scurbarti, ma il capo vuole vederti. Chissà che cosa vuole. Eccolo, capo. C'è un guasto sulla linea di Acerale, che nasce dell'Auler, sono bloccate. Servono due persone per fissare i cadi. Non è una manovra semplice. Doppia paga per questo incarico. Andiamo, capo. C'è anche un extra. Accettiamo, eh? Va bene. Fantastico, andiamo. Al lavoro. Vi qua. Sono dietro di te. Scusa Carl. Non preoccuparti. Gli strumenti non arriveranno alla fine del turno. Quassù. Guarda lì. Una nave separatista. Non vedevo una Lucre Hulk dal secolo. Già. Secoli. Brottomarla ci farebbe fare molti soldi. Eh, andiamo. Bene ragazzi. Questo è quello che troverete sul canale di Marco Drums Games Channel. Nella breve Star Wars Jedi Fallen Order. Ciao ragazzi. Alla prossima. E mi raccomando di seguire tutta la storia su Star Wars Jedi Fallen Order. Marco Drums Games Channel. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Grazie a tutti.